Quattro punti in due partite con il pareggio ottenuto in casa del Crotone, seconda forza del campionato. Questo è il cammino della Turris nelle ultime due gare contro i Calabresi, ma soprattutto in casa con il Cerignola. Il Liguori è tornato ad essere l'arma in più dei corallini di Mister Fontana, che avevano vinto tra le Muramiche solamente con il Monterosi il 5 febbraio. Ancora prima, in campionato, bisognava tornare al 14 di settembre per un successo interno contro il Taranto 2-1. Ultima per rendimento casalingo la Turris, con solo tre vittorie e 15 punti conquistati. Una rosa, quella bianco-rossa, che non rispecchia affatto la classifica attuale. Meno 5 dalla salvezza diretta, con un super maniero a trascinare i suoi compagni. Giunto, anche quest'anno, a quota 10 reti e quindi in doppia cifra. Poi la qualità dei vari Leonetti e Giannone, senza dimenticare un ritorno importante, quello di Daniele Franco, che ha restituito brillantezza e geometria alla mediana. La Turris ci crede, ed è giusto e doveroso così, perché in un campionato come questo tutto può succedere. Addirittura sognare ad otto gare dalla fine un decimo posto in griglia play-off, distante ora sette lunghezze, non sarebbe utopia. Domenica sfida in trasferta in casa di un Latina abbastanza anonimo nelle ultime settimane. Due sconfitti e un pareggio per la compagine di Didonato, che vanno a caccia del riscatto proprio contro i Corallini.